Hugh Grant lascia la saga dedicata a Bridget Jones e la notizia è più che mai attendibile, considerando che è stata data dallo stesso attore. Ho deciso di non farlo, ha dichiarato Hugh a proposito del terzo film durante un'intervista rilasciata a Free Radio, ma penso che andranno avanti e lo faranno senza Daniel. Il libro è bellissimo comunque, ma la sceneggiatura è completamente diversa, almeno la sceneggiatura che ho visto l'ultima volta, e parliamo di un po' di anni fa. Senza Daniel Cleaver la sceneggiatura di Bridget Jones Baby, titolo provvisorio della pellicola, verrà ulteriormente modificata, e le somiglianze con il libro saranno veramente pochissime. I problemi con la sceneggiatura risalgono in realtà già qualche anno fa, e a lamentarsi furono tutti e tre i protagonisti. Grant in particolare chiese di rivedere qualcosa, e secondo l'Empire si è tirato fuori ora perché appare chiaro che non ci sia una visione comune. Dopo l'addio di Hugh Grant, la produzione ha chiamato Emma Thompson per correggere e occuparsi della sceneggiatura. Sarà un tentativo in extremis per riprendersi Hugh?